poca gente quella mattina nel parco attorno alle terme la stagione balneare era ormai per finire in due sediletti vicini in un crocicchio sotto gli alti platani stavano un giovanotto pallido anzi giallo magro da far pietà dentro l'abito nuovo chiaro le cui pieghe per essere troppo ampio ancora fresche della stiratura cascavano tutte a zig zag e uno macione sulla cinquantina con un abituccio di teletta tutto raggrinzito dove la pinguedine enorme non lo stirava fino a farlo scoppiare e un vecchio panoma sformato sul testone raso reggevano entrambi per il manico i bicchieri ancora pieni della tepida e greve acqua alcalina presa aurora alla fonte uomo grasso quasi intronato ancora dagli strepitosi ronfi che aveva dovuto tirar col naso durante la notte socchiudeva di tanto in tanto nel faccione da padre abate satollo e pago gli occhi imbambolati dal sonno il giovanotto magro all'aria frizzante della mattina sentiva freddo e aveva perfino qualche brivido né l'uno né l'altro sapevano risolversi a bere e pareva che ciascuno aspettasse dall'altro l'esempio alla fine dopo il primo sorso si guardarono coi volti contratti dalla medesima espressione di nausea il fegato è domandò piano a un tratto l'uomo grasso al giovanotto riscotendosi colichette epatiche lei ha moglie mi figuro no perché domandò a sua volta il giovanotto con un penoso raggrinzimento di tutta la faccia che voleva essere un sorriso mi pareva così all'aria sospirò l'altro ma se non ha moglie stia pur tranquillo lei guarirà il giovanotto tornò a sorridere come prima lei soffre forse di fegato domandò poi argutamente no no niente più moglie io si affrettò a rispondere con sirietà all'uomo grasso soffrivo di fegato ma grazie a dio mi sono liberato della moglie sono guarito vengo qua da tredici anni ormai per atto di gratitudine scusi quando è arrivato lei ieri sera alle sei disse il giovanotto per questo esclamò l'altro socchiudendo gli occhi e tentennando il testone se fosse arrivato di mattina già mi conoscerebbe io la conoscerei ma sì come mi conoscono tutti qua sono famoso guardi alla piazza dell'arena in tutti gli alberghi in tutte le pensioni al circolo al caffè da pedoca in farmacia da tredici anni a questa parte stagione per stagione non si parla che di me io lo so e ne godo e ci vengo apposta dove è sceso lei da rori bravo stia pur sicuro che oggi a tavola da rori le narreranno la mia storia ci prendo avanti se permette e gliela narroio filo filo così dicendo si tirò su faticosamente dal suo sedile e andò a quello del giovanotto che gli fece posto con la faccetta gialla tutta strizzata per la contentezza prima di tutto per intenderci qua mi chiamano il marito della dottoressa cambia mi chiamo di nome bernardo bernardone perché sono grosso beva bevo anch'io bevero fecero una nuova smorfia di disgusto che vogliono cambiare subito in un sorriso guardandosi teneramente e cambia riprese lei è giovanissimo e patituccio sul serio queste confidenze sviscerate che le farò ne potranno servire più di questa quaccia qua che è amara ma in compenso non giova a nulla creda pure ce la danno a bere in tutti i sensi e noi la beviamo perché è cattiva se fosse buona ma no basta perché lei fa la cura e le conviene aver fiducia deve sapere che sentivo dire matrimonio e con rispetto mi si rompeva lo stomaco proprio mi mi veniva di sì signore vedevo un corteo nuziale sapevo che un amico andava a nozze lo stesso effetto ma che vuole da noi sciagurati mortali spunta una macchiolina di sole un subisso di cataclismi ora si alza con la lingua sporca guerre estermini senza fine un vulcano c'ha il singhiozzo terremoti catastrofi un'ecatombe a napoli al tempo mio ci scoppiò il colera quel gran colera di circa vent'anni fa di cui lei se non si ricorda avrà certo sentito parlare mio padre povero impiegato con la bella fortuna che lo perseguitava naturalmente si trovò a napoli l'anno del colera io che avevo già trent'anni e vi avevo trovato un buon collocamento avevo preso a figione un quartierino da scapolo non molto lontano da casa mia stavo in famiglia e lì tenevo una ragazza che mi era piovuta come dal cielo carlotta si chiamava così era figlia di un non c'è niente di male sa professioni figlia di uno strozzino prete spogliato era scappata di casa per certi litigi con la madraccia e un fratellino farebutto che non starò a raccontarle un povera bonina pareva bonina lei ed era forse allora ma capirà amante poco ci sofisticavo scusi è religioso lei così così forse più no che sì come me mia madre invece caro signore religiosissima povera donna soffriva molto di quella mia relazione per lei peccaminosa sapeva che quella ragazza prima che mia non era stata da altri scoppiato il colera atterrita dalla grande moria e convinta fermamente che dovessimo tutti morire io soprattutto che ero secondo lei un peccato mortale per placare l'ira divina pretese da me il sacrificio che sposassi almeno in chiesa solamente quella ragazza creda pure che io non l'avrei mai fatto se carlotta non fosse stata colpita dal male dovevo salvarle l'anima almeno l'avevo promesso a mia madre corsi a chiamare un prete e la sposai a che fu mano santa miracolo pareva morta guarì mia madre per spirito di carità anzi di sacrificio nonostante la tremarella aveva voluto assistere alla cerimonia e poi rimanere lì presso al letto della colpita sembrava che il colera fosse venuto a napoli per me per castigar me dal peccato mortale e che dovesse passare con la guarigione di carlotta tanto impegno tanto zelo mise mia madre a curarla appena l'ebbe salvata vedendo che lì in quel quartierino mancavano per la convalescente tutti i comodi volle anche portarsela a casa nonostante la mia opposizione capirà bene che entrata carlotta non ne usci più se non mia sposa legittima di lì a poco appena cessata la moria e ribeviamo caro signore per fortuna a carlotta durante l'epidemia erano morti padre madre e fratelli fortuna e disgrazia perché unica superstite della famiglia ereditò 38 40.000 lire frutto della nobile professione paterna moglie e con la dote che vide signor mio cambiò da un giorno all'altro da così a così ora senta sarà che io mi trovo in corpo un certo spiritaccio come dire filosofesco che magari a lei potrà sembrare strambo ma mi lasci dire crede lei che ci siano due soli generi il maschile il femminile no signore la moglie è un genere a parte come il marito un genere a parte e quanto ai generi la donna col matrimonio ci guadagna sempre avanza entra cioè a partecipare di tanto del genere mascolino di quanto l'uomo necessariamente ne scapita molto creda a me se mi venisse la malinconia di comporre una grammatichetta ragionata come dico io vorrei mettere per regola che si debba dire il moglie e per conseguenza la marito lei ride ma per la moglie caro signore il marito non è più un uomo tanto vero che non si cura più di piacergli con te non c'è più sugo pensa la moglie tu da mi conosci ma pure se il marito è così da venaccio da rinzelarsi vedendola per esempio a letto come una diavola coi capelli incartocciati col viso impiastricciato e via dicendo ma io lo faccio per te è capace di rispondergli lei per me sicuro per non farti sfigurare ti piacerebbe che la gente vedendoci per via dicesse oh guarda un po che moglie è andato a scegliersi quel pover uomo e il marito che gliel'assicuro non è più un uomo si sta zitto quando invece dovrebbe gridare ma me lo dico io da me cara che moglie sono andato a scegliermi nel vederti così adesso accanto a me ah tu mi ti mostri brutta per casa e a letto perché gli altri poi per via possono esclamare oh guarda che bella moglie ha quel pover uomo e mi debbono invidiare per giunta ma grazie grazie cara di questa invidia per me che si traduce naturalmente in un desiderio di te tu vuoi essere desiderata perché io sia invidiato quanto sei buona ma più buono sono io che t'ho sposata e il dialogo potrebbe seguitare perché c'è il caso sa che la moglie abbia anche l'impudenza incosciente di domandare al marito se acconciata adesso e parata per uscire a passeggio gli pare che stia bene il marito dovrebbe risponderle ma sai cara i gusti sono tanti a me come a me già te l'ho detto con questi capelli pettinati così non mi carbano a chi vuoi piacere bisognerebbe che tu me lo dicessi per saperti rispondere a nessuno proprio a nessuno ma allora benedetta te nessuno per nessuno cerca di piacere a tuo marito che almeno è uno caro signore a una tale risposta la moglie guarderebbe il marito quasi per compassione poi farebbe una spallucciata come a dire ma tu che c'entri e avrebbe ragione le donne non possono farne a meno per istinto vogliono piacere è un bisogno d'essere desiderate le donne ora capirà un marito non può più desiderare la moglie che a giorno e notte con sé non può desiderarla intendo come la vorrebbe essere desiderata già come la moglie nel marito non vede più l'uomo così l'uomo nella moglie a lungo andare non vede più la donna l'uomo più filosofo per natura ci passa sopra la donna invece se ne offende e perciò il marito le diventa presto increscioso e spesso insopportabile essa deve fare il comodo suo il marito no ma qualunque cosa gli facesse creda pure non andrebbe mai bene per lei perché l'amore quel tale amore di cui ella ha bisogno il marito solamente perché marito non può più darglielo più che amore è una certa ora d'ammirazione di cui ella vuol sentirsi avviluppata ora vada lei ad ammirarla per la casa quei diavoletti in capo senza busto in ciabatte e oggi poniamo col mal di pancia e domani col mal di denti quella certa ora può spirare fuori dagli occhi degli uomini che non sanno e dei quali essa senza parere con arte sopraffina ha voluto e saputo attirare e fermare gli sguardi per inebriarsene deliziosamente se è una moglie onesta questo ne basta ne parlo adesso delle moglie oneste io intendiamoci anzi delle intemerate addirittura delle altre non c'è più sugo a parlarne mi consenta un'altra piccola riflessione noi uomini abbiamo preso il vetto di dire che la donna è un essere incomprensibile signor mio la donna invece è tal quale come noi ma non può né mostrarlo né dirlo perché sa prima di tutto che la società non glielo consente recando a colpa a lei quel che invece reputa naturale per l'uomo e poi perché sa che non farebbe piacere agli uomini se lo mostrasse e lo dicesse ecco spiegato l'enigma che ha avuto come me la disgrazia di intoppare in una moglie senza peli sulla lingua non sa bene e diamo ancora una bevutina coraggio non era così da prima carlotta diventò così subito dopo il matrimonio appena cioè si sentì a posto e si accorse che io cominciai naturalmente a vedere in lei non soltanto il piacere ma anche quella bruttissima cosa che è il dovere io dovevo rispettarlo adesso no era mia moglie ebbene forse lei non voleva essere rispettata chissà perché il vedermi diventare di punto in bianco un marito esemplare le diede terribilmente ai nervi cominciò per noi una vita d'inferno lei sempre ingrugnata spinosa irrequieta io paziente un po per paura un po per la coscienza ad aver commesso la più grossa delle bestialità e di doverle piangere le conseguenze mi andavo appresso come un cagnolino e facevo peggio per quanto mi ci scapassi non riuscivo però a indovinare che diamine volesse mia moglie ma avrei sfidato chiunque a indovinarlo sa che voleva voleva essere nata uomo mia moglie e se la pigliava con me perché era nata femmina uomo diceva e magari cieco di un occhio un giorno le domandai sentiamo un po che avresti fatto se fossi nata uomo mi rispose sbarrando tanto d'occhi il mascalzone brava e moglie niente sai non l'avrai presa grazie cara oh puoi esserne più che sicuro e ti saresti spassato dunque tu credi che con le donne ci si possa spassare mia moglie mi guardò nel fondo degli occhi lo domandi a me mi disse tu forse non lo sai io non avrei preso moglie anche per non far prigioniera una povera donna ah esclamai prigioniera ti senti e lei mi sento e che sono che sono stata sempre da che vivo io non conosco che te quando mai ho goduto io avresti voluto conoscere altri ma certo ma precisamente come te che ne hai conosciute tante prima e chissà quante dopo dunque signor mio tenga bene a mente questo che una donna desidera proprio tal quale come noi lei per modo d'esempio vede una bella donna la segue con gli occhi e se la immagina tutta e con pensiero la abbraccia senza dirle nulla naturalmente a sua moglie che le cammina accanto nel frattempo sua moglie vede un bel uomo lo segue con gli occhi se lo immagina tutto e col pensiero lo abbraccia senza dirne nulla a lei naturalmente niente di straordinario in questo ma creda pure che non fa punto piacere il supporre questa cosa ovvia e comunissima nella propria moglie prigioniere col corpo ma non con l'anima e il corpo stesso dica un po non abbiamo noi uomini la coscienza che avvengono opportunità non sapremmo affatto resistere ebbene si immagini che è proprio lo stesso per la donna cascano cascano che è un piacere con la stessa facilità se loro viene fatto se trovano cioè un uomo risoluto di cui si possa infidare me l'ha lasciato intender bene mia moglie parlando si intende delle altre e vengo al caso mio naturalmente dopo un anno di matrimonio mi ammalai di fegato per sei anni di fila cura inutili che fecero strazio del mio povero corpo ridotto in uno stato da far pietà fin anche agli altri ammalati del mio stesso male il rimedio dovevo trovarlo qua ci venne con mia moglie e nei primi giorni alloggiai da rori dove ora è lei ordinai appena arrivato che mi si chiamasse un medico per farmi visitare e prescrivere quanti bicchieri al giorno avrei dovuto bere o se mi sarebbero convenute più le docce o i bagni d'acqua sul furea mi si presentò un bel giovane bruno alto ai tante della persona dall'aria marziale tutto vestito di nero seppi poco dopo che era stato di fatti nell'esercito medico militare tenente medico chiarovigo aveva contratto una relazione con la figlia di un tipografo che ne aveva avuto una bambina e che costretto a sposare sarà dimesso ed era venuto qua in condotta otto mesi dopo questo suo grande sacrifizio erano morte quasi contemporaneamente moglie e figliuola erano già passati circa tre anni dalla doppia sciagura ed egli vestiva ancora di nero come un bellissimo corvo faceva furore capirà con quel sacrificio delle dimissioni per amore così mal ricompensato dalla sorte con quelle due disgrazie che gli si leggevano ancora scolpite in tutta la persona impostata che neanche carlo magno tutte le donne a lasciarle fare avrebbero voluto consolarlo e lo sapeva e si mostrava sdegnoso dunque venne da me mi visitò ben bene palpandomi tutto mi ripete pressa poco quel che già tant'altri medici mi avevano detto infine mi prescrisse la cura tre mezzi bicchieri di questi mezzani per i primi giorni poi tre interi e un giorno bagno un giorno doccia stava per andarsene quando finse ad accorgersi della presenza di mia moglie anche la signora domandò guardandola freddamente no no negò subito mia moglie con un viso lungo lungo e le sopracciglia sbalzate fino all'attaccatura dei capelli eppure permette fece lui e si accostò e sollevò con delicatezza il mento con una mano e con l'indice dell'altra le rovesciò appena una palpebra un po anemica disse mia moglie mi guardò pallidissima come se quella diagnosi a bruciapelo l'avesse lì per lì anemizzata e con un risolino nervoso sulle labbra alzò le spalle disse ma io non mi sento nulla il medico si inchinò serio meglio così e andò via con molta dignità fosse l'acqua o il bagno o la doccia o piuttosto come io credo la bella alia che si gode qua e la dolcezza della campagna toscana il fatto è che mi sentì subito meglio tanto che decisi di fermarmi per un mese o due e per stare con maggior libertà presi a pigione un appartamentino presso la pensione un po più giù da coli che ha un bel poggiolo donde si scopre tutta la vallata coi due laghetti di chiusi e di monte pulciano ma non so se lei lo ha già supposto cominciò a sentirsi male mia moglie non diceva anemia perché lo aveva detto il medico diceva che si sentiva una certa stanchezza al cuore e come un peso sul petto che le tratteneva il respiro e allora io con l'aria più ingenua che potei vuoi farti visitare anche tu cara si stizzì fieramente come io prevedevo e rifiutò il male si capisce crebbe di giorno in giorno crebbe quanto più lei si ostinò nel rifiuto io duro non le dissi più nulla finché lei stessa un giorno non potendone più mi disse che voleva la visita ma non di quel medico no recisamente no dell'altro medico condotto ce n'erano due allora dal dottor barry voleva farsi visitare che era un vecchiotto insipido asmatico quasi cieco già mezzo giubilato ora giubilato del tutto all'altro mondo ma via esclamai chi chiama più il dottor barry e sarebbe poi uno sgarbo immeritato al dottor loero che si è dimostrato sempre così premuroso e cortese con noi di fatte ogni giorno qua alle terme vedendomi scendere dalla vettura con mia moglie il dottor loero si faceva innanzi con quella impostatura altera e compunta si congratulava con me della mia rapida miglioria mi accompagnava alla fonte e poi su e giù per i vialetti del parco non mancando ai debiti riguardi verso mia moglie ma curandosi pochissimo nei primi giorni di lei che ne gonfiava si intende in silenzio da una settimana però avevano preso a battagliare fra loro sull'eterna questione degli uomini e delle donne dell'uomo che è prepotente della donna che è vittima della società che è ingiusta eccetera eccetera creda signor mio non posso più sentirne parlare di queste bagianate in sette anni di matrimonio fra me e mia moglie non si parlò mai d'altro le confesso tuttavia che in quella settimana gongolai nel sentir ripetere al dottor loero con molta compostezza le mie stesse argomentazioni e col pepe col sale dell'autorità scientifica mia moglie a me mi caricava di insulti col dottor loero invece doveva rodere il freno della convenienza ma della vile che non poteva sputare insaporava ben bene le parole speravo con questo che il mal di cuore le passasse ma che come le ho detto le crebbe di giorno in giorno segno non le pare che la voleva convincere con altri argomenti l'avversario e guardi un po che razza di parte tocca talvolta di rappresentare a un povero marito sapevo benissimo che la voleva essere visitata dal dottor loero e che era tutta una commedia l'antipatia che questi le faceva una commedia la pretesa ad essere visitata invece da quel vecchio asmatico e rimbecillito come una commedia era quel suo mal di cuore eppure dovetti fingere di credere sul serio a tutte e tre le cose e sudare una camicia per indurla a fare quello che lei in fondo desiderava caro signore quando mia moglie senza busto si intende si stese sul letto e lui il dottore la guardò negli occhi nel chinarsi per posarle l'occhio sulla mammella io la vidi quasi mancare quasi disfarsi le vidi negli occhi e nel volto quel tal turbamento quel tal tremore che lei mi intende bene la conoscevo e non potevo sbagliare poteva bastare no una moglie rimane onestissima illibata inammendabile dopo una visita come quella visita medica c'è poco da dire sotto gli occhi del marito e va bene che bisogno c'era domando io di venirmi a cantar sul muso quel che già sapevo dentro di me e avevo visto con gli occhi miei e quasi toccato con mano su su coraggio ribeviamo ribeviamo me ne stavo una sera sul pollolo a contemplare il magnifico spettacolo dell'ampia vallata sotto la luna mia moglie sarà già messa a letto lei mi vede così grasso e forse non mi suppone capace di commuovermi a uno spettacolo della natura ma creda che ho un'anima piuttosto mingerlina un'animuccia coi capelli biondi o e col vicino dolce dolce diafano e affilato e gli occhi color di cielo un'animuccia insomma che pare un'inglesina quando nel silenzio e nella solitudine si affaccia alle finestre di questi miei occhiacci di bue e si intenerisce alla vista della luna e allo scampanellio che fanno i grilli sparsi per la campagna i uomini di giorno nelle città e i grilli non si danno la notte nelle campagne bella professione quella del grillo che fai canto e perché canti non lo sa nemmeno lui canta e tutte le stelle tremano nel cielo e le guarda bella professione anche quella delle stelle che stanno a farsi lassù niente guardano anche loro nel vuoto e par che n'abbiano un brivido continuo e sapesse quanto mi piace il gufo che in mezzo a tanta dolcezza si mette a singhiozzare da lontano angosciato ci piange lui dalla dolcezza basta guardavo commosso come l'ho detto quello spettacolo ma già sentivo un po di fresco erano passate le undici e stavo per ritirarmi quando di picchiare forte e a lungo all'uscio di strada chi poteva essere a quell'ora il dottor lo ero in uno stato signor mio da far compassione filanche alle pietre ubriaco fradicio erano venuti da firenze da perugia e da roma cinque o sei medici per la cura dell'acqua ed egli col farmacista aveva pensato bene di dare una cena ai colleghi nell'ospedaletto della croce verde dietro la collegiata lì vicino a rori allegra come lei può immaginare una cenetta all'ospedale e altro che cura d'acqua saranno ubriacati tutti come tanti non diciamo maiali perché i maiali poveracci non hanno veramente questa abitudine che idea gli era balenata nel vino di venire a inquietar me che ero quella sera come le ho detto tutto chiaro di luna barcollava e dovetti sorreggerlo fino al poggiolo lui mi abbracciò stretto stretto e mi disse che mi voleva bene un bene da fratello e che tutta la sera aveva parlato di me coi colleghi del mio fegato e del mio stomaco rovinati che gli stavano a cuore tanto a cuore che passando innanzi alla mia porta non aveva voluto trascurare di farmi una visitina temendo che il giorno appresso non sarebbe potuto andare alle terme perché non si sarebbe detto beh ma aveva proprio bevuto un pochino io a ringraziarlo si figuri ad esortarlo ad andarsene a casa che era già tardi niente volle una seggiola per mettersi a sedere sul poggiolo e cominciò a parlarmi di mia moglie che gli piaceva tanto e voleva che andasse a destarla perché con lui ci stava la signora carlottina o se ci stava e come bella puledra ombrosa che sparava calci per amore per farsi carezzare e via di questo passo schignazzando e tentando con gli occhi che gli si chiudevano soli certi furbeschi ammiccamenti mi dica lei che potevo fargli in quello stato schiaffeggiare un che non si leggeva in piedi mia moglie che si era svegliata me lo gridò rabbiosamente tre o quattro volte dal letto anche a me la volontà di schiaffeggiarlo era scesa nelle mani ma chissà che impressione avrebbe fatto uno schiaffo a quel povero giovine che nella beata incoscienza del vino aveva perduto ogni nozione sociale civile e gridava in faccia la verità allegramente lo afferrai e lo tirai su dalla seggiola una certa scrollatina non potei fare a meno di dargliela ma fu lì per cascare e dovetti aver cura del suo stato fino alla porta là sì idea di un piccolo spintone e lo mandai a ruzzolare per la strada quando entrai in camera da letto trovai mia moglie con un diavolo per capello frenetica addirittura si era levata dal letto mi assaltò di ingiurie sanguinose mi disse che se fossi stato un altro uomo avrei dovuto pestarmi sotto i piedi quel mascalzone e poi buttarlo dal poggiolo che era un uomo di carta pesta senza sangue nelle vene senza rossore in faccia incapace di difendere la rispettabilità della moglie e capacissimo invece di far tanto di cappello al primo venuto che non la lasciai finire levai una mano e gridai che badasse bene lo schiaffo che avrei dovuto dare a lui se non fosse stato ubriaco l'avrei appioppato a lei se non taceva non tacque si figuri dal furore passò al dileggio ma sicuro che mi era facilissimo fare il gradasso con lei scaffeggiare una donna dopo aver accolto e accompagnato coi debiti riguardi fino alla porta uno che era venuto a insultarmi fino a casa ma perché perché non ero andato a destarla subito anzi perché non glielo avevo introdotto in camera e pregato di mettersi a letto con lei tu lo sfiderai mi gridò infine fuori di sé tu lo sfiderai domani e guai a te se non lo fai a sentirsi dire certe cose da una donna qualunque uomo si ribella mi ero già spogliato e messo a letto gli dissi che la smettesse una buona volta e mi lasciasse dormire in pace non avrei sfidato nessuno anche per non dare a lei questa soddisfazione ma durante la notte tra me e me ci pensai molto non sapevo e non so di cavalleria se un gentiluomo debba raccogliere l'insulto e la provocazione di un ubriaco che non sa quel che si dica la mattina dopo ero sul punto di regarmi a prendere consiglio da un maggiore in ritiro che avevo conosciuto alle terme quando questo stesso maggiore in compagnia di un altro signore del paese venne a chiedermi lui soddisfazione a nome del dottor loero già per il modo come lo avevo messo alla porta la sera precedente pare che il mio spintone cadendo si fosse ferito il naso ma se era ubriaco gridai a quei signori tanto peggio per me dovevo usarli un certo riguardo io capisce e per miracolo mia moglie non mi aveva mangiato perché non lo avevo buttato giù dal poggiolo basta voglio andare per le leste accettai la sfida ma mia moglie mi sghignò sul muso e senza portare un po di mezzo cominciò a preparare le sue robe voleva partire subito andarsene senza aspettare l'esito del duello che pur sapeva a condizioni gravissime da che ero in ballo volevo ballare e impose lui le condizioni alla pistola benissimo ma io pretesi allora che si facesse a quindici passi e scrissi una lettera alla vigilia che mi fa crepar delle risa ogni qual volta la rileggo lei non può figurarsi che storta di sciampiaggi vengono in mente a un povero uomo insiffatti frangenti non avevo mai maneggiato armi ne giuro che istintivamente chiudevo gli occhi sparando il duello si fece alla faggeta i primi due colpi andarono a vuoto al terzo no il terzo andò pure a vuoto fu il quarto al quarto colpo veda un po che testa dura quella del dottore la palla ci vide per me e andò a bollarlo in fronte ma non gli intaccò l'osso gli strisciò sotto la cute capelluta e gli riuscì di dietro dalla nuca di per lì parve morto accorremmo tutti anch'io ma uno dei miei padrini mi consigliò da allontanarmi di salire in vettura e scappare per la via di chiusi scappai il giorno dopo venne a sapere di che si trattava e un'altra cosa venne a sapere che mi riempì di gioia e di rammarico a un tempo di gioia per me di rammarico per il mio avversario il quale dopo una palla in fronte pover uomo non se la meritava davvero riaprendo gli occhi nell'ospedaletto della croce verde il dottor loero si vide innanzi un bellissimo spettacolo mia moglie ha corsa al suo pezzale per assisterlo della ferita guarì in una quindicina di giorni di mia moglie caro signore non è più guarito vogliamo andare per il secondo bicchiere